Puoi leggerla in sloveno o in italiano la formazione del Kras, sempre forte rimane. Al confine vorrebbe portarsi la Coppa Italia che manca in bacheca, ma anche il Kions la vuole per cominciare a parlare sempre più chiara la lingua dei vincenti. Il Kions gioca per la storia, il Kras per l'ennesima vittoria. Diciamo così, Francio? Beh, si è fotografato in maniera, direi, giustissima. Il Kions ne ho promossa, squadra organizzatissima, squadra comunque con un certo potere economico. Secondo me ha costruito un'ottima squadra che farà un grande campionato e che intanto ha raggiunto questa finale importante. Il Kras lo conosciamo tutti, è la squadra da battere in eccellenza. Ci dispiace che abbia questo su e giù, diciamo, in quella Serie B, però è sempre una delle migliori società e squadre che ci sono in Friuli Venezia Giulia. Ecco le formazioni in campo, ecco la finale di Coppa Italia. Kras-Kions, un po' di emozione, Francione? Ma no, emozione no, però voglia di vedere una bella partita, di far divertire chi è rimasto a casa, sperando che lo spettacolo ci sia, nonostante le condizioni avverse meteorologiche. Spettacolare l'organizzazione di Cervignano, ancora. Complimenti alla società del Cervignano. Si gioca, perlomeno si comincia, Kras-Kions. Prepariamo una piccola pausa pubblicitaria, piccolissima, che vi terranno compagnia ai nostri mini spot in questa diretta di Coppa Italia. La terza consecutiva per FWG Sport Channel. Come dicevamo, all'inizio il Kras, puoi leggerla davvero in sloveno o in italiano, questa formazione resta fortissima, ma dall'altra parte c'è un'altra grande il Kions. Speriamo allora in una bella partita sotto la pioggia. Mini spot, torniamo fra poco per il calcio di inizio. Ristorante e pizzeria al nuovo Baffone a Basaldella, all'uscita di Udine Sud, facile da raggiungere. Impossibile da dimenticare. Anche lo staff di A Tutto Campo ha scelto il nuovo Baffone. Se cerchi la buona cucina, hai solo una scelta. Ristorante e pizzeria al nuovo Baffone. A Basaldella. È un grande piacere anche trovare subito il riscontro anche su Facebook. Gli amici che ci scrivono, spero non si arrabbino se li nomino. Massimo Miano che dice grazie Massimo per la diretta sul divano. Poi Stefania Agnolon che era dirigente del Pravis Domini. Vi sto seguendo. Insomma, è come abbiamo detto un servizio. Ringraziamo anche tutti gli amici da casa che ci seguono per questa diretta della finale di Coppa Italia. Il calcio d'inizio è affidato al Kras. Knezzevic, il capitano naturalmente sul pallone. Ferro di Latisana fischia l'inizio della finale di Coppa Italia di Lettanti. 5 gennaio 2014. È il primo impegno dell'anno per il calcio di Lettanti. Il pallone comincia subito a bloccarsi un po'. Ma adesso dimentichiamoci di questa situazione e commentiamo la finale. Vi abbiamo detto delle formazioni. Adesso con Federico Francione nel commento tecnico analizzeremo un po' anche i primi minuti. La disposizione in campo. Ma intanto andiamo in crona che seguiamo. Giordano che è un po' il faro del Kras. Va a battere questa punizione ma viene subito ingannato dal campo. È difficilissimo giocare. Ci vogliono muscoli e cuore oggi. E ci vuole anche grande attenzione. Francio, Ritz fermato, fanno laterale. Beh, sicuramente il campo non permetterà di portare tanto palla perché ovviamente fermandosi non smette a piovere. Se non smetterà probabilmente un po' gli esterni offensivi come Vritz. Adesso Francescuto lo vedo molto spostato. Pensavo di vederlo più centrale, diciamo, al centro dell'attacco. Mentre sembra che questo ruolo sia ricoperto da Paciulli. Diciamo che non consentirà di portare palla. Bisognerà giocare... Attenzione a Ritz, il lancio viene fermato. Non riesce a calibrare bene per Paciulli. Ruba palla a Giordano. Culibali viene fermato dal fischio di Ferro di Latisana. È vero, è vero. Su Francescuto c'è questa situazione che voglio chiarire. Vogliamo chiarire. Tutti ci aspettiamo un centrale. Mi è stato detto anche da lui, il mio ruolo è quello di esterno. C'è poco da discutere, lo ha proprio dichiarato. Quindi se lo dice lui, il suo ruolo è quello. Ok, ok. Comunque ti dicevo, devono essere bravi i giocatori a interpretare la partita nella maniera giusta tenendo in grande considerazione le condizioni del campo che purtroppo non permetteranno delle grandi giocate tecniche. Gruic allunga per Corvaglia. Corvaglia la sua seconda finale negli ultimi tre anni. Protagonista anche in quel manzanese torviscosa, prima diretta di FWG Sport Channel. E dove, curiosità, uscì lui dopo una grandissima partita, 26 esce, entra Tomada, calcio d'angolo, gol di Tomada. Il calcio è anche questo. Corvaglia è un giocatore che ormai sono un paio d'anni che si sta fermando nel panorama regionale. credo che sia anche pronto per fare il salto in Serie D, perché sarei curioso di vederlo in un campionato sicuramente molto più difficile. Cercherà di farlo col Kras. Sicuramente. Perché lo sappiamo, insomma, il primissimo obiettivo del Kras era Serie D, ma come abbiamo detto, manca la Coppa Italia. Ha vinto tutto il Kras, ma la Coppa Italia d'eccellenza gli manca, quindi proverà a portarsela a casa. D'altra parte il Chions, che naturalmente è la sua prima storica finale, l'ho detto più volte anche i dirigenti e staff per noi. E nel nostro piccolo è una partita storica, naturalmente. E anche quest'anno, come l'anno scorso, una finale del tutto inedita. Mettiamola così, che a mio avviso a parità di condizioni atmosferiche, nel senso no, ho detto male. Scusa, Zussol, battuto la calcio di punizione, continua a restare in attacco il Chions, si prova perlomeno. Vritz riesce ad addomesticare questo pallone. Vritz vuole andare al cross con il sinistro, deviato, prova a ripartire il Kras. Con la velocità di Corvaglia esce subito Berta King, diventa un lancio per Paciulli. Arriva però, Danilo, prego. Dicevo che in un campo asciutto, con una bella giornata, avrei visto favorito il Kras, perché comunque è una squadra molto forte. Certo, che gioca. Che gioca, con giocatori che hanno fatto categorie ben più importanti, quindi con molta più esperienza. Però con queste condizioni le diversità tecniche, secondo me, si azzerano e quindi si parte veramente da una condizione di totale equilibrio. Vritz servito da Btiki. Vritz col destro diventa un tiro cross, ma nessun problema per Danilo. Tre minuti di gioco, 0-0 tra Kions e Kras e naturalmente, come abbiamo ripetuto, come stiamo ripetendo ormai da circa un'ora, una partita che è particolarmente complicata. Anche perché, come potete anche notare, o forse dal video non ce la farete, ma c'è questa pioggia, è leggera ma insistente, no? Piove, c'è poco da dire. Piove il campo, però per il momento sta tenendo bene, speriamo che continui così. Consentimi di fare un plauso a Arcaba, che in questo momento è andato in totale controllo, perché un ragazzo di 41 anni che comunque continua a essere protagonista a questi livelli, tanto di cappello, perché è veramente un giocatore che è tanta roba, veramente. Il Kras attacca adesso la fondo sulla destra, è di Tav Gui, il giovane, classe 95, mette al centro, prova a girare di testa, Zloga, non ce la fa, continua a lottare il Kras, Ferro di Latisana, lascia proseguire, ma adesso no, c'è fallo su Kulibali, calcio di punizione, poco fuori dall'area di rigore del Kions, quindi potrà prendere fiato la squadra di Vittore e riprendere a fare gioco, perché sembra che Francio faccia gioco il Kions adesso. Siamo che è partita bene, l'ha messa subito, mentre il Kras ha cominciato con i suoi fraseggi, che però il campo cerca di penalizzarlo, invece il Kions colpisce lungo e va ad attaccare nella metà campo offensiva del Kras, fruttando ogni tipo di rimbalzo, in questo momento sembrano, siano partiti un po' meglio, ecco. Abbiamo visto anche prontamente il replay del nostro Francesco Zilli in regia con Enrico Tomat, Matteo Sabadini e Tiziano Floreancic alle telecamere per questa diretta di Coppa Italia, la terza, un altro evento nel marchio di FWG Sports Channel. 5 minuti di gioco, calcio di punizione, fra poco lanceremo, fra qualche minuto, avviso la regia ma la prendo comoda, lanceremo un altro mini spot, seguiamo però, restiamo in diretta con la cronaca. Il calcio di punizione per il Kras, c'è Giordano, c'è Giordano con il destro, da un'occhiata in aria, pallone naturalmente lungo, cercare la prolunga di testa, queste sono palle per Canduscio, infatti ci arriva lui, poi Paciulli fa bene la sponda e gioca con Cullibali, diventa un lancio per Vritz e fuori gioco, è fuori gioco, calcio di punizione per il Kras, mini spot. Etigraf, azienda nata nel 1983 come laboratorio tipografico per la stampa di etichette autodesive in bobina. Etigraf assicura un sempre migliore e completo servizio, che va dalla progettazione alla fornitura della soluzione alle nuove idee di packaging. Etigraf, in via Alessandro Mazzoni a Chiongs. Siamo rientrati in diretta da Cervigliano del Friuli, qui al campo al dissabo di Cervigliano, sei minuti di gioco, 0 a 0 il risultato tra le due finaliste di Coppa, questa finale completamente inedita, gioca una squadra della provincia di Pordenone, la squadra della provincia di Trieste e si gioca naturalmente in provincia di Lugine, qui a Cervigliano, che ripetiamo il concetto, si è organizzata davvero in maniera fantastica per questa finale. A rovinare tutto purtroppo, lo sappiamo, il maltempo. Il generale Inverno la fa da padrone. Eh, purtroppo sì. Non so se anche a te hai colpito, insomma, subito l'entrata, lo strisone sotto la tribuna. Entrava in clima, Francio, no? Esatto. Entrava in clima partita. Non riesce ad agganciare qua Capalbo. E riprende il gioco con Guiotto, ma Ferro predica calma. Se smettesse almeno un po', capisci? C'è il campo a retto, però un povero campo. Continuando a piovere incessantemente e copiosamente. C'è qual è il problema, Francio? Certo che puoi sospendere, se arrivi a un punto che non ce la fai, però domani è impossibile che la recuperi. Non puoi giocarla perché gli stai dando una passata al campo. Eh, lo stai distruggendo. Sicuramente non puoi giocare. Lancio lungo, attenzione a Francescutto, il pallone buono, il sinistro, Daniel lo respinge, resta lì. Chions 1, Kras 0, ha segnato Paciulli. E il vantaggio del Chions sul Kras. Sette minuti di gioco. 1-0 Chions. Venerico Francioni, come reagisci? Eh, reagisco che ha colpito. L'avevamo detto che l'aveva interpretata da subito bene il Chions, con queste palle lunghe, che mettono in difficoltà sicuramente la difesa avversaria, perché bisogna andare a rinviare bene, ma si può anche sbagliare. E alla prima vera occasione, un bellissimo tiro di Francescutto. Un'ottima risposta del portiere del Kras. Secondo me invece non perfetta. Eh, però il campo non ti consente di dire, ha rispinto però sui piedi di Vritz, di Paciulli, che si è avventato. E per lui è stato un gioco da ragazzi metterla dentro. Quindi partita che si sblocca, quindi spettacolo assicurato adesso. E adesso sì, è in vantaggio il Chions qui a Cervignano. La finale di Coppa Italia si è già sbloccata. E noi parlavamo del terreno pesante, ma ormai forse, direi, senza forse i giocatori non ci pensano più. Devono solo giocare, anche perché adesso è anche cambiato il risultato. E quindi sospederla diventerebbe sempre più difficile. Il gol è di Paciulli, infilata clamorosa. Poi rivediamo le immagini, voglio il tuo giudizio, Francio. Sono curioso di rivedere i golci, perché qualcuno ha sbagliato. Qualcuno ha sbagliato, perché Francio Iscutto era praticamente liberissimo, liberissimo di andare a calciare, di andare al tiro. Così è stato poi in agguato. C'era Paciulli, Tappin vincente. Adesso siamo al nono minuto, ma è già in vantaggio il Chions. Il Kras prova ad agire, prolunga di testa Corvaglia. Esce Canduso, spazza via, trova la schiena di Capalbo. Riconquista palla, Zlogar per il Kras. Prova ad andare via come un trattore, ci mette il fisico, però commette anche fallo, calcio di punizione per il Chions. Zlogar col numero 10 oggi, Francio. Quello che era il tuo numero, dall'altra parte c'era Zuzo. Due ottimi giocatori, attenzione, assolutamente. Magari Zuzo un po' più bravo, più rapido tecnicamente. Zlogar è un giocatore che la sua carriera parla da sole. È un giocatore che ha giocato anche nei tornei europei con squadre importanti. Nazionale slovena, Zlogar, tra le sue esperienze, ricordiamo, è per l'ultima, la conosciamo tutti. Credo abbia fatto anche l'Europa League con una squadra cipriota, quindi è un giocatore che insomma sa il fatto suo. Il campo ha più esperienza di tutti quanti. L'ultima esperienza a Pordenone, in serie di Pordenone. Ricordiamo che oggi gioca. E noi terremo aggiornati i nostri ascoltatori su quello che è risultato. Attenzione però, si avvicina al limite dell'area del Krasma, qua ancora esce bene De Nadai del Chions. De Nadai che è uno dei giocatori con più partite nel Chions, dopo ovviamente il capitano storico che è Volpati, una squadra quella del Chions fondamentalmente giovane che nasce dal ciclo, un po' prima del ciclo Vittore, ma soprattutto negli ultimi tre anni con Vittore che è nato un vero e proprio ciclo di giocatori. Pensate, nelle ultime tre stagioni ben 159 punti realizzati da Vittore sulla panchina del Krasse, 47 le vittorie nelle due stagioni di promozione. Teniamo conto anche del girone di andata in eccellenza. Insomma, davvero un rendimento fantastico. Eh sì, direi complimenti a Mister Vittore, complimenti alla società che pian pianino, lavorando, programmando seriamente si ritrovano ad essere in questo momento una delle migliori società nel panorama dilettantistico friulano e quindi complimenti vivissimi al Chions. Candusso di te stava a prenderla molto bassa. Sai, adesso Massimo, di solito questo tipo di terreno agevole a chi si deve difendere, quindi l'essere passato in vantaggio è un'ottima condizione per il Chions. Gioca al Krasse, chiamato a reagire dal settimo minuto in vantaggio il Chions. Chiedo però alla regia di proporsi, se possibile, il replay del vantaggio del Chions per andare a rivedere questa situazione, come è maturato il vantaggio della squadra di Vittore mentre il Krasse attacca ma viene subito fermata su Nasser l'azione della squadra di Branko, Zupan il Krasse, parlavamo dello score di Vittore mentre qua c'è il numero del numero 8 Curibali, lancio, lancio a cercare la profondità per Pazzulli riesce a recuperare Pallas e la ritrova lì Dagnolo. Dicevamo dello score di Vittore, non dimentichiamoci però due squadre della storia giovane, relativamente giovane poi quella del Krasse negli ultimi dieci anni Francio è davvero una storia pazzesca nel 2001 la prima promozione, dalla terza alla seconda poi la scalata in serie di numeri davvero da record dicevo il numero anche di Knezzevic fermi alla scorsa stagione fino in serie di 173 gol Guarda, io te l'ho detto, noi tante volte l'abbiamo un po' tra virgolette criticata ma le nostre volevano essere delle critiche magari costruttive cioè ci dispiace che il Krasse quando si trova in eccellenza vince quasi sempre il campionato però non è capace di mantenere la categoria l'anno dopo e questo è un po' una cosa che devono assolutamente migliorare è successa la prima volta poteva essere una questione di inesperienza e sono venuti giù però l'anno scorso uguale hanno rivinto il campionato e hanno disputato purtroppo un campionato brutto perché alla fine non sono mai stati nella condizione di avere una possibilità di salvarsi quando la forza economica e societaria del Krasse che può permettersi determinati investimenti ci si aspetta sempre che costruiscano una squadra un po' più forte per la Serie D assolutamente perché io non mi stuferò mai di dirlo che la Serie D purtroppo è tre scalini almeno sopra l'eccellenza frulana quindi non la puoi affrontare con una squadra diciamo che ha vinto l'eccellenza devi buttare dentro dei giocatori e certamente serve anche un'importante esperienza che sta anche maturando questa squadra questa anche dirigenza fondamentalmente giovane nel panorama dilettantistico intanto un quarto d'ora che come ti sembra la situazione anche del Krasse che prova a reagire ma fa molta fatica si conferma la fatica su questo campionato sicuramente ma c'è da dire che il Chions è passato in vantaggio mentre aveva interpretato abbastanza andando a gradire la seconda palla sempre da cui poi è nato anche il gol del vantaggio in questo momento forse anche il Chions è un po' tirato indietro scusa Francio però c'è il numero di Corvaglia che va via così a Bertacchini mette al centro Candusso la deviazione poi De Nadai allontana il Krasse prova a giocarla ancora si porta a parla sul sinistro poi cede per la giocata di Gruic il tocco sotto non va, riesce a difendersi il Chions però adesso molto molto pericoloso il Krasse 15 minuti di gioco combatte contro terreno di gioco poi lanci lunghi questa è la soluzione lancio lungo che poi arriva a cui 8 non deve continuare a interpretare la partita come ha fatto dal primo minuto invece in questo momento forse si sono tirati un po' indietro perché obiettivamente quando va in vantaggio psicologicamente supentra questo fatto di tirarsi un po' indietro però a mio avviso il Krasse può concedere adesso il Krasse dovrà scoprirsi un po' per cercare di pareggiare la partita e può concedere guarda Spettici come porta a palla senza paura Spettici ci ha giocato l'anno scorso ricordiamo che Spettici ha vinto il campionato di Serie D non d'eccellenza col Portotolle quindi è un giocatore che secondo me non me ne vogliano i tifosi del Krasse ma è un peccato che giochi in eccellenza ecco, fortuna per quelli del Krasse che gioca nel Krasse ma è un giocatore che dovrebbe fare la Serie D e che secondo me nel Pordenone Vritz lotta intanto Francio contro Colavetta prova ad andare via invece Corvaglia adesso si lotta scivolate davvero non mancheranno oggi su questo campo non è questo tipo di spettacolo che si c'era però è una parte anche questa spettacolare del calcio forse un calcio più antico quando giocare su questi campi sicuramente non era non era Blasfeld assolutamente anzi una volta godevano nel giocare questi campi diciamo che la nostra generazione è un po' più abituata alle cose belle alle cose più facili e quindi giustamente si si lamenta un po' si si lamenta un po' se il campo è normale però ho visto davvero di peggio anche se diventa sempre più pesante e il gioco naturalmente lo state vedendo anche voi ne risente che è 11-1 Cras 0 assegnato a Paciulli al settimo minuto di gioco di questo primo tempo della finale di Coppa Italia va a richiamare Giordano Ferro di Latigiana l'arbitro scelto per questo incontro 22 anni da due stagioni Ferro ormai arbitra tra eccellenza e promozione 20 gare in eccellenza 19 e in ascesa provane sia la nomina per la finale di Coppa Italia dopo Coppa e Marinesco negli ultimi due anni adesso deve difendersi la squadra di Pino Vittore in questo momento di gioco su riata iniziale subito il vantaggio ma adesso ha preso campo ha preso campo il Cras anche perché come ripeto come dicevo prima si è tirato indietro il Chions e anche adesso lì in area chiuso io ho sempre paura quando tendi a tirarti indietro non si sa mai perché è una mischia il campo la palla che salta male il campo così però è una cosa psicologica che capita a tutte le squadre quando vai in vantaggio e poi quando sei in area c'è sempre Knez si può far paura ma adesso Gruiz con il destro Canduscio è lì e la blocca ripartenza del Chions Francescutto è solo a sinistra però non riesce a riniscarlo Vriz non ce la fa aveva chiamato palla Francescutto ma naturalmente il terreno di gioco impedisce la giocata a Vriz che ha recuperato per questa gara dopo l'infortunio rimediato proprio nella semifinale vinta con Charlize Muzzane attenzione in area al Chions libera ancora il Kras libera scusate in area al Kras libera ancora il Chions abbiamo invertito le maglie ma non succede nulla non succede davvero nulla perché alla fine si ripartirà con una rimessa dal fondo di Guiotto 18 minuti di gioco lo vedete sempre nella nostra grafica 1-0 per la squadra di Vittorio partita col Turbo e poi adesso da qualche minuto come diceva anche Federico Francioni si è chiusa ti dirò che mi sta un po' così io è la prima volta che lo vedo dal vivo quest'anno il crash quindi non è mai facile giudicare però Corvaglia io sono abituato a vederlo attenzione adesso il numero di Corvaglia anche su un campo così pesante riesce a fare queste giocate la grinta di Coulibaly l'arrivo poi di Bertacchini calcio d'angolo è uscito il crash e adesso fa paura poi Corvaglia ti dico ha queste giocate ha questa forza fisica è quasi un po' a mio avviso ecco questo volevo dire è un po' limitante vederlo fermo qua sulla fascia sinistra secondo me darebbe molta più vitalità all'attacco se venisse fatto svariare su tutti i palloni del fronte offensivo e non solo sulla fascia sinistra però Gruici intanto dalla bandierina calcio d'angolo parte non esce Guiotto perché c'è un colpo di testa a liberare dall'altra parte il colpo di tacco illuminante di Arkham alla giocata pallone però finisce fuori ci sarà un altro calcio d'angolo per il Kras bei duelli perché comunque sono due squadre che hanno dei giocatori molto forti fisicamente quindi i duelli sulle palle inattive sono molto interessanti attenzione però secondo me a Spetic e a Zlogar perché sono due grandissimi colpitori di testa e sono in area naturalmente il sinistro sul primo palo cercare il capitano Knezvic poi Capalbo arriva la riesce a mettere giù poi il tacco ancora un'altra apertura per Tavui la finta il cross palla al centro colpo di testa lo avevi chiamato Kiosuno Krasuno il colpo di testa è di Zlogar e la finale è di nuovo in parità 1-1 lo hai chiamato ma guarda adesso non è per fare ma insomma Zlogar di testa ci ha abituato a fare un sacco di gol anche a Pordenone è un giocatore pericolosissimo va marcato stretto in questo caso c'è stata una grandissima giocata secondo me di Tanguy che ha affittato il cross di sinistro ha saltato facilmente Koulibaly col destro la pennellata e Zlogar di testa sull'area piccola è stato un gioco da ragazzi il saccare questo è il discorso il fumogeno adesso del cross che già c'è la pioggia ci disturbano anche questi non importa ma va bene così bisogna festeggiare è giusto così intanto è 1-1 adesso io non vedo praticamente nulla io sì c'è l'azione sulla fascia sinistra si non riesce a riconoscere tutto bene comunque una scivolata pallone fuori rimessa laterale ecco vedete adesso non si vede più naturalmente nebbia 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 speriamo speriamo vengono limitati l'avevamo detto il Kions non doveva tirarsi indietro per concedere queste cose queste palle inattive in cui il cross è pericologissimo rivediamo il gol intanto Massimo vedi che è completamente solo Zlogar eh sì è stata persa la marcatura mentre era ancora in area il Kions per un attimo mentre si soffermavamo sul replay ma ci torniamo fra poco restiamo in cronaca perché gioca il Kions sarà un calcio di punizione chissà se riusciremo a rivedere il gol del Kions perché la regia è stata bravissima sul gol del Kras perfetto ma arriva anche quello del Kions sì fiducioso poi c'è post partita ma figurati figurati era per capire un po' siamo curiosi di rivederlo purtroppo ci hanno quasi preso in controtempo il gol del Kions intanto seguiamo il calcio di punizione per il Kions Vriz un uomo solo a disturbare in barriera poi arriva Capalbo Vriz benissimo al centro colpo di testa Paciulli ancora Kions 2 Kras 1 e ancora Paciulli decisivo in coppa più che mai ancora lui ancora lui ho visto bene sembrava che a me Paciulli adesso rivedremo l'immagine però ti voglio dire questo completamente solo cioè Paciulli che finale però non me ne voglia ma non è un grandissimo colpitore di testa quindi si è trovato completamente solo ed è stato un gioco da ragazzi buttarla dentro ma che amnesia il Kras ma che finale però ma che finale ma questo campo può succedere di tutto e a Cervignano non mancano i gol non manca lo spettacolo e di nuovo avanti il Kions ancora la firma chiara di Paciulli di testa che non è il suo biglietto da visita comunque insomma rivediamo guarda completamente solo nessuno lo marca no Arcaba però è dietro che sta marcando un altro nessuno ha seguito il taglio di Paciulli incredibile puoi prendere un gol del genere non puoi è incredibile insomma è cambiato ancora il risultato tra l'altro il portiere non mi è sembrato riguardiamo perché il colpo di testa non è irresistibile di Paciulli colpisce all'altezza del dischetto del rigore la palla va centrale il portiere ma c'ha un po' di colpa anche il portiere a mio avviso perché non era un colpo di testa eccezionale intanto c'è Gruic sul pallone adesso seguiamo questo calcio diventano tutte palle gol in pratica si Gruic colpo di testa resta lì riesce a liberare però Chions attenzione infatti ce lo confermano adesso ha segnato Zusso attenzione a Knezzevic la girata la girata di Knezzevic non va si salva al Chions c'era non so se Tiziano riesce ad andare in grafica nella mia postazione perché ero col dubbio lo avevo scritto Francione col grande dubbio Paciulli o Zusso attenzione a Corvaglia Corvaglia intanto Corvaglia in area libera il Chions c'è Gruic col destro fuori gioco fuori gioco ha fatto gol Zusso dicono che ci possiamo rivedere ma io quando ho visto il replay ho avuto qualche dubbio infatti te l'ho scritto infatti te l'avevo scritto in voglio la prova voglio la prova no Zusso è questo no questo è Paciulli non si riesce a capire dalle no no non fa gol Zusso fa gol Paciulli dai 10 ma c'era fa il 9 l'avevamo visto bene dai è Paciulli intanto attenzione c'è un passaggio è gol di Paciulli è gol di Paciulli l'avevo visto bene bene è perché ci vogliono sempre riprendere ci vogliono riprendere ma noi non sbagliamo poco quasi niente direi si mettono un dubbio in una finale di Coppa Italia questo è tutto in diretta entra Taccia vediamo se arriva il primo giallo Ferro decide sì è monito Corvaldia per questa scivolata su Vriz d'accordo? ma guarda secondo me il campo è talmente brutto che comunque ogni scivolata uno prende velocità fa fatica a controllarsi deve essere bravo l'arbitro a non ammonire perché qua veramente non c'è l'intenzione assoluta di far male ma di arrivare prima sul pallone quando ti butti in scivolata prendi una velocità tale che poi non riesci a controllarla quindi un po' forse esagerata questa munizione intanto c'è il primo cartellino giallo dunque per Corvaldia siamo a questo è il gol questo è il primo gol vedi respita il portiere è arrivato però arriva Paciulli senza dubbio se noi lo rivediamo se ce la mandano un po' indietro che rivediamo fra un po' ripiloghiamo tutto naturalmente perché ci sono stati tre gol è un lavoro particolarmente importante anche per la regia perché è una finale piena di emozioni piena di situazioni pericolose ma se riescono a farcela ripartire da un po' prima l'azione del primo gol adesso cercheremo di no non ce la facciamo adesso dopo avremo tutto comunque vista la posizione di Arkab e vista la posizione di Francescutto che tatticamente dovrebbe essere marcato accompagnato da Tanguy credo che chi non abbia fatto la diagonale difensiva giusta è Tanguy e Francescutto si è trovato libero di bye grazie alla regia veramente bravi complimenti arriva il paccio però Arkab ha dovuto andare a chiudere su Francescutto che non era stato seguito da Tanguy perché va anche detto che nell'impostazione tattica del crash Tanguy gioca terzino ma è un uomo molto offensivo più bravo a offendere che a difendere e questo dà una grossa mano in fase di spinta ma in fase difensiva ti può penalizzare questa è l'analisi del primo gol di Federico Franconi è stato molto critico poi in entrambi i casi negli ultimi due gol con le due difese anche perché non abbiamo visto diciamo la bravura di chi è andato a colpire di testa quanto la solitudine beata di cui godeva più Paciulli Paciulli clamoroso ma lo stesso Corvaglia attenzione guarda come va Corvaglia con il sinistro sorvola la traversa fuori ma c'è l'acuto di Corvaglia partita apertissima mi sembra quello più in palla del Kras tra l'altro perché sta nascendo tutto da lui le situazioni più importanti salta sistematicamente l'uomo sembra non aver problemi su un campo di questo tipo quindi Corvaglia mi sta veramente impressionato chi sta mancando un po' è il Cobra perché il Cobra Knesevich perché un paio di palle sono arrivate in area lui solitamente si fa trovare pronto però la partita è lunga assolutamente lunga e ne vedremo ancora delle belle lunga è piena davvero di emozioni ancora ancora da seguire questo Kions Paciulli a lunga arriva Arcava stavolta con l'esperienza ci mette il corpo prova ad uscire subito Arcava anche una finta su Paciulli la tiene lì poi forse rischia un po' troppo con questo campo però ci sono due alla fine guadagna una rimessa laterale ha rischiato un po' si Marci gioca sempre con la sigaretta in bocca non ha problemi di queste cose qua tanto che non ha la legge di preparare un meeting spot che lanceremo prima possibile perché naturalmente diamo un spazio anche ai nostri sponsor che ringraziamo per questa finale di Coppa Italia li vedrete poi anche nelle fasce dell'intervallo del post partita mentre il Kras attacca attacca sulla sinistra l'uscita di Kandus che va finalmente a campo mentre Grujic apre per Capalbo difende il Chions che ha ritrovato subito il vantaggio in maniera rapidissima contro il Kras Tavgui adesso Tavgui sulla fascia destra cerca lo scambio con Giordano Giordano che forse si è visto poco è stato limitato anche dall'ottimo lavoro del centro campo del del Chions anche spostato adesso perché è partito più davanti alla difesa centralmente adesso è stato mandato dietro le punte Capalbo adesso il cross di Capalbo ancora Knezjevic ma Candusio stavolta ci arriva Vritz in fase di ripiegamento vuole il movimento di Bertha King la palla è giusta frenata un po' dal campo poi c'è il fallo le proteste ma adesso un mini spot Etigraf azienda nata nel 1983 come laboratorio tipografico per la stampa di etichette autodesive in bobina Etigraf assicura un sempre migliore e completo servizio che va dalla progettazione alla fornitura della soluzione alle nuove idee di packaging Etigraf invia Alessandro Mazzoni a Chions Rientrata in diretta Rientrata in diretta Chions Kras 2 a 1 a Pazzulli aveva risposto Zloger ma poi ancora come detto la firma del Pazzulli 2 a 1 abbiamo rivisto anche i gol poi nell'intervallo avremo modo di commentarle ancora con più calma Francio queste reti Vritz con il sinistro come viene c'è anche un rimpallo poi Arcava di testa mezz'ora di gioco superata la finale combattuta e bella si fa sentire nella nostra sinistra il pubblico del Kras un po' arrabbiato voleva un fischio però delle volte sai gli arbitri sono quelle cose che ti mandano un po' in bestia perché Giordano prima che gli fosse fischiato il fallo ne ha subiti 4 alla quinta intervento però magari l'arbitro voleva lasciare anche l'arbitro sicuramente non è facile anche perché poi i contatti le scivolate su questo campo sono numerose però secondo me l'arbitro in questo momento sta arbitrando abbastanza bene Candus è ancora di testa poi Paciulli prolunga c'è Arcaba palla in avanti cade a terra cade a terra Capalbo c'è calcio di punizione da una buona posizione ottima posizione adesso vediamo chi calcerà credo Knesevic un fallo un po' ingenuo di Candus a mio avviso perché è andato un po' troppo in ruento è andato in ruento sai il giocatore Capalbo comunque era spalla alla porta la palla era alta non è che potesse fare delle grandi giocate poteva un po' frenare la sua in ruenza e non concedere un calcio di punizione sicuramente pericoloso c'è anche Spettic bisogna essere intelligenti su queste cose qua perché al minimo contatto uno è normale che caschi per terra quindi si guadagnano dei calci di punizione pericolosi attenzione allora al trentaduesimo minuto calcio di punizione per il Kras se lontana Knesevic vuole la potenza Spettic ma no parte Knesevic sopra la barriera Guiotto non ci arriva lui ma il pallone finisce fuori solo un brivido per il Chions trentaduesimo sempre 2-1 punizione ben calciata uscita veramente di niente sembrava un po' lenta però sembrava un po' lenta però sicuramente l'ha fatta schizzare quasi è vero l'aveva calibrata l'aveva calibrata molto bene si rinvia Guiotto stiamo rivedendo la punizione va fuori di pochissimo tant'è che prende il palo d'appoggio però Guiotto ha dato l'impressione di esserci appunto perché lenta ha riuscito a preparare la parata comunque 33 minuti volati Francio si perché le due squadre stanno andando battaglia stanno facendo una partita sicuramente per quello che gli consente il campo ottima anche dal punto di vista tecnico quindi un plauso a tutte e due le squadre perché sono state veramente sono veramente brave la finale davvero pioggia non ci lascia mai non ci lascia infatti stavo proprio dicendo una finale che ci ha lasciato diciamo così permettetemi questa terminologia col fiato sospeso diciamo fino all'ultimo davvero perché ieri già c'erano le prime telefonate di provarla a rinviare d'ufficio fortunatamente non è stato fatto e poi oggi davvero fino all'ultimo il dubbio gioca in area il Kraspa inenus e qualche rischio poi Spetti ci ritrova al pallone lì cerca di lanciarlo riallontanarlo il Kras adesso dalla sua metà campo esce ancora il Kras con la vetta se non sbaglio recupera questa palla capalbolo nel frattempo vedete la difficoltà di portare avanti la palla adesso bisce fallo altra scivolata adesso però una grande difficoltà di portare avanti la palla adesso giustamente secondo me Zlogar sta chiedendo la munizione quantomeno la stessa parità di trattamento perché il fallo di Corvoglia che è costato la munizione a Corvoglia era quantomeno simile a quello che ha appena effettuato Pighin doveva essere Pighin Pighin però in questo caso l'arbitro ha ritenuto non necessario estrarre il cartellino giallo taccio di punizione allora per il Kras che se ha un demerito quello di aver trovato il pareggio ma è clamoroso come ha subito subito due minuti dopo subito subito un'amnesia incredibile difensiva molto molto grave nell'intervallo prima di lasciare spazio all'intervista di Simone Fornanziera avremo modo un attimo di prima di lasciare appunto di andare in pubblicità avremo modo di rivedere i replay attacca al Kras ma viene fermato subito l'azione da quella parte tra l'altro c'è Zusso se non sbaglio a manovrare grande grande sacrificio oggi per lui pallone che passa in area deve recuperare Pighin ce la fa calcio d'angolo forse qua Gruj poteva far la finta di crossare avrebbe mandato sicuramente a vuoto il terzino vi ricordo che questa sintesi potrete questa gara scusate questa finale potete rivederla in replica stasera all'I21 vi ricordo amici di FWG Sport la trasmissione a tutto campo che noi abbiamo una pagina facebook che è anche adesso aggiornata a tutto campo cliccate mi piace insomma per essere vicini anche alla nostra trasmissione pagina facebook basta cercare a tutto campo per il terzo anno noi come tv come trasmissione siamo in diretta per raccontarvi la finale di Coppa Italia attenzione chios crass con il chios che cercava ancora di rendersi pericoloso lascia di quei contropiedi cioè in questo caso erano due contro uno fortuna vuole che la palla è arrivata addosso è quello che diceva di Agostino in Francio era quello se il crass se il crass comincia a stare molto alto va in difficoltà perché non riesce a recuperare ma adesso da un rinvio perché è stato un rinvio della difesa siamo trovati in due contro uno con tutta la metà campo davanti rischierà male che quella francescutto porta palla avanti francescutto in sinistro centrale nessun problema per D'Agolo che Fransioni ha valutato non perfetto in occasione del secondo sicuramente sì perché il colpo di testa chiaro forse lui non sapeva dove andare però la palla alla fine si è infilata centralmente alle sue spalle è stato preso un po' contro Tevo che sembrava stesse andando su un angolo però rivedendo anche sul primo gol come ha detto te la rispinta non è stata delle migliori però va detto a sua discolpa che il terreno intanto Paciulli ha ricevuto con la palla larga per Vriz sempre pericoloso ha dato un'occhiata all'assistente Vriz rientra sul sinistro non ce la fa però poi Arcaba esce e lotta ci sarebbe forse che farlo ma si può giocare Arcaba russito servire Corvaglia Corvaglia che deve dare una mano poi si scontrano Corvaglia e Giordano rimessa laterale però Francio tatticamente largo il Chions molto largo apre e può far sempre male sicuramente è più pericoloso ma sicuramente molto più pericoloso poi insomma sono due squadre che alla fine non hanno sono presentate con formazioni molto offensive questo va dato merito ai due allenatori che ce la stanno giocando a viso aperto senza troppi tanticismi ecco Vriz in questo momento nell'azione che aveva avuto poc'anzi un Vriz forse al pieno della forma sarebbe stato sicuramente più mortifero invece non è riuscito a importante a saltare a saltare con la vita importante comunque per mister Vittore recuperare un giocatore simile per questa finale un Chions insomma che sembra davvero in palla che sembra diverso assolutamente da quello che in campionato perse 3 a 0 contro il Kras perse nettamente le fasce le fasce cominciano ad essere quasi quasi impraticabile purtroppo non cessa non cessa un secondo di piovere questo è proprio sfortuna perché sai c'è arrivato almeno se per un attimo mollare se ti fai 20 minuti almeno tenendo così come vedi adesso anche l'errore di Gruic Vriz fermato la palla sono 3 contro 2 Zusso se Zusso gliela messa di prima è fuori gioco di Francesco ma no va da solo Zusso non va Zusso Zusso non è fuori gioco per Paciulli forse non ci arriva esterno della rete occasionissima per il Kras però un grande dubbio sulla posizione di Francescutto assolutamente no Massimo ma Francescutto era in fuori gioco però alla fine tutti si sono fermati Francescutto anche e si è lanciato da solo Zusso secondo me ingenuità del Kras perché non devi fermarti assolutamente assolutamente si è fermato e qua hanno sbagliato un gol clamoroso ma di nuovo la situazione di cui parlavamo prima 4 giocatori del Kras del Kions a campo aperto contro solo 2 difensori del Kras cioè non puoi concedere queste cose qua tutto è nato comunque da una tutto è nato da una come posso dire da una punizione calciata malissimo da Gruic che ha dato il là poi al Kions che aveva campo attenzione però dice palla Giordano non so quanto abbia preso la palla vorrebbero Giallo forse richiama Ferro poi secondo me Giallo glielo dà per le proteste rivediamo intanto rivediamo eh no Giordano questa non è palla no il fallo la munizione l'ha presa perché ha protestato perché ha protestato platalmente qui ha visto bene Ferro e c'è poco da lamentarsi si scalda il pubblico un po' di pubblico c'è sottolineiamo anche questo appena eh fischierà alla fine del primo tempo eh avviso la regia mini spot non fascia lunga rientreremo sempre in postazione di mio franconi per eh rivedere un attimo quello che è successo poi fascia pubblicitaria e le interviste all'intervallo di Simone Fornasiero intanto mangano cinque minuti alla fine di un primo tempo davvero emozionante con tanto Chions con Chions sempre pericolosissimo vicinissimo anche al 3 a 1 poco fa con Paciungo 41 di gioco calcio d'angolo per la squadra di Vittoria Concesso Crass sta concedendo sta prendendo delle imbarcate incredibili perché veramente sono già state due o tre situazioni in cui se non sbagliano l'ultimo passaggio clamoroso quello di Zusso su Paciugli era gol fatto consentono dei contropiedi devastanti non si può non si può al quarantesimo del primo tempo non mancano due minuti alla fine della partita no? C'è tutto il tempo per recuperare tanto Vritz sul primo palo calcio d'angolo ancora ci sarà sempre l'ex giocatore della Sacilesi ma se dovremmo dire la più in lusso ha giocato a Verona in Serie C Vritz si ha fatto qualche partita l'Italia San Marco in Serie C e adesso due stagioni al Chiosove è tornato a grandi livelli in una categoria che forse non è la sua Canduscio di testa pallone alto sopra la traversa ma ancora pericoloso il Chiosove ovviamente se da una parte ci sono Zlogar e Spettici dall'altra Canduscio è un signor colpitore di testa e va marcato bene insomma in questo primo tempo un Kras davvero un po' quasi perso a un certo punto si era ripreso poi si è perso clamorosamente e continua a subire certe situazioni di gioco dove il Kion sembra avere vita facile ha sempre campo aperto ma ti dirò sai il Kras secondo me sta facendo una buona partita l'unica cosa è che essendo giocatori di una certa esperienza devono capire che non è che siamo agli ultimi minuti e devi buttarti su all'arembaggio e concedere determinati contropiedi perché c'è tutta una vita da giocare ci sono ancora 45 minuti più i restanti tre più recupero del primo tempo quindi bisogna farlo in maniera intelligente e ne è lanciato Knezvic ecco qua il pallone se per caso si ferma ogni pallone va giocato mai darlo per morto insomma quindi se in uno di questi contropiedi concessi al Kions tu prendi il 3-1 allora comincia a essere quasi difficile recuperare invece così rimani in partita ma non devi scoprirti devi cercare di restare equilibrato soprattutto per l'esperienza che hai è una squadra esperta non è una squadra di ragazzini che si buttano avanti Giordano lotta lotta con Francescuto lascia proseguire Ferro poi Giordano con sinistro cade a terra Knezvic cade a terra Knezvic ma Ferro gli fa decisamente segno di rialzarsi era un'azione era una palla pericolosissima in area protesta per il rigore no? protesta per il rigore è caduto adesso lo rivediamo attenzione c'è sempre il calcio d'angolo però vediamo se riusciamo ad andare a chiudere questa questa azione partita dalla dall'azione di Giordano lo rivediamo dopo rientriamo calcio d'angolo deviato Gruic mette al centro c'è Canduscio rivediamo tutto a fine primo tempo adesso lanceremo fra pochissimo il mini spot vediamo quanto se ci sarà almeno un minuto di recupero oppure chiuderà al 45esimo ferro di Latisana il ormai siamo vicini alla fine di questo primo tempo dove il Chionse è in vantaggio per 2 a 1 decisiva appunto la doppietta di Paciulli abbiamo tolto ogni dubbio sul marcatore noi non l'abbiamo neanche mai avuto nessun dubbio no? noi non l'abbiamo oddio tu no? io un attimo ce l'ho avuto un attimo ce l'ho avuto un attimo ce l'ho avuto infatti mi scrivevi non riuscivo a capire le cose intendevi però c'è qualcuno ancora qua tipo Fornasier che è ancora convinto della sua idea ma Fornasier sai che non ci vede bene lui è un po' così ne parleremo dopo 45esimo ha segnalato il recupero non l'abbiamo visto davvero me lo sono perso forse due minuti Vrizza ancora faccia a sinistra tiene palla vuole andare al cross una deviazione poi c'è Francescutto non c'è fuorizoco mette al centro Daniel lo respinge poi va a cercarla ancora e poi decisivo Arcaba ancora ancora Chions che paura per il Kras su un'altra situazione di gioco dove Daniolo e poi Arcaba ci hanno messo una pezza perdono sempre l'uomo io non so è una cosa allucinante ogni cross non seguono mai l'uomo non prendono mai l'uomo la prima cosa che devi fare da difensore è marcare sentirlo il contatto con l'attaccante avversario invece qua sembra che Francescutto come abbiamo visto ma rientriamo perché attacca il Kras con Grujic cerca Knezzevic scivola anche poi arriva Guiotto 46esimo ormai abbiamo visto in questo primo tempo la supremazia a livello o almeno di occasioni del Chions prova a giocare il Kras ma è difficile se non è possibile e forse gli sta mancando anche quello che è uno dei giocatori secondo me più bravi del Kras perché Grujic secondo me è un giocatore devastante per questa categoria ma oggi non riesce ancora ad entrare in partita sta facendo molta fatica su un campo veramente pesante finisce qua al primo tempo Kions 2 Kras 1 Pazzulli poi parezza Zlogar ma subito dopo ancora Pazzulli e il Kions è in vantaggio il Kions alla fine dei primi 45 minuti ha almeno una mano sulla Coppa Italia direttante mini spot e poi rivediamo cos'è successo rapidamente con Federico Francioni e poi l'intervista di Simone Fornasere mini spot Friultex produzione di tessuti in tubolare per la maglieria intima Friultex propone un vasto assortimento di articoli sia per l'intimo che per l'esternabile con passione e fornitori del made in Italy Friultex ad Azzano X attenzione noi restiamo eccoci qua siamo di nuovo in diretta fra poco andiamo in postazione lo vedete anche Simone Fornasiere ma restiamo pure sul terreno di gioco un attimo perché vogliamo vedere anche il replay rapidamente poi daremo la linea a Simone Fornasiere dopo la fascia pubblicitaria chiedo Francesco Zilli allora se possibile subito di andare a vedere gli episodi salienti un rapido commento con Federico Francioni e poi e poi torniamo e poi andiamo con le interviste una partita emozionante dicevamo una bella partita complimenti alle due squadre che veramente su un campo ai limiti della praticabilità stanno stanno giocando un ottimo calcio anche se clamorosi errori da ambo le parti sui gol ecco allora rivediamo un attimo e poi andiamo con le interviste lancio lungo completamente solo in bucata Francescutto in bucata centrale Francescutto ti ripeto secondo me Daniel lo respinge benissimo e beh poi faccio lì è un gioco da ragazzo è un avvoltoio però è andato seguito subito come fanno i veri attaccanti è al settimo minuto il vantaggio questo è il gol dell'1-0 poi se è possibile cerchiamo di essere il più rapidi possibile perché poi dobbiamo andare con le interviste e rientrare questo è il secondo gol ti dicevo colpo di tacco di Kappalbo prende palla Tanguy finta il cross di sinistro tac salta l'uomo mette un bellissimo cross di destro sì molto bello e guarda completamente solo lo perde non lo perde Nadaje cioè doveva arrivarci lui su quel pallone e Knesevi c'è un gioco da ragazzi subito dopo Zuzzo praticamente fa questo movimento è marcato da Tanguy ma guardiamo guardiamo centro alla Paciulli è tra Tanguy e Spettic tutti e due si fermano e da solo Paciulli la imbuca con il portiere che però non mi sembra esente da colpe e comunque Kions meritatamente inventato meritatamente secondo me 2-1 allora falsa pubblicitaria e poi le interviste le interviste qui all'intervallo sempre in diretta da Cervigliano con Simone Fornasiera e i suoi ospiti spot e poi rientra lui in riferimento all'ultimo spot non so se tu se tu ne avevi fatto caso sei un frequentatore della rotonda di Cervigliano salutiamo la famiglia Mansi che è sempre pronta malati di calcio malati in senso buono quindi sempre pronti a partecipare ricordiamo l'appuntamento col first class ecco perfetto quindi fai contro spot benissimo hai fatto bene come fossero due passaggi di conteggio così insomma magari mi offro qualcosa da bene quando vado là lo chiedi lo chiedi è iniziato è iniziato il secondo tempo la finale di Coppa Italia direttante Kions contro Kras Kras che ha cambiato maglia la finezza perché è pesante la maglia invece il Kions continuano battaglieri comunque avanti tutta avanti tutta non dovrebbero esserci cambi cambi da parte dei due allenatori almeno io non ne ho notati Francio no ti confermo che sono le stesse formazioni in campo in campo al primo minuto e adesso ci si attende insomma in questo secondo tempo dopo un primo pieno di emozioni ci si attende insomma una reazione assoluta del Kras che nell'intervallo con i tifosi continuavano a lamentarsi in maniera forte per un rigore su Knezjevic almeno così era sembrato noi non ci siamo sbilanciati del tutto ma dalle immagini si vede che sul cross sicuramente il difensore spinge un po' da dietro Knezjevic quindi il contatto c'è effettivamente Knezjevic un po' per esperienza un po' accentua molto però insomma diciamo questo se fosse stato dato non sarebbe stato uno scandalo sicuramente ricordo a Federico Francione che sarà lui per conto di FVG Sports da scegliere l'uomo partita che verrà premiato qui al Conegliano come accadde l'anno scorso a Tarcento Kulibali rischia tantissimo perché era davvero al limite dell'area di rigore lato corto dell'area di rigore calcio di punizione sul solito Corvaglia che continua a saltare sistematicamente il suo uomo cioè Bertacchini diciamo che possiamo dire che Corvaglia è il migliore mi sembra il più in palla dei giocatori del crass però l'uomo partita al momento sarebbe un altro l'uomo partita in questo momento è Paciulli per forza di cose insomma anche perché nonostante i due gol giocando da centravanti puro gli ho visto smistare molto bene anche determinati palloni su un campo veramente difficile soprattutto stretto nella morsa di due difensori centrali così forti fisicamente che in un campo così pesante sono avvantaggiati rispetto a lui quindi Arca e questo è l'ultimo punizione molto pericolosa eh eh sì il lato corto fa sempre paura quelle punizioni adesso Gruis deve cominciare a calciare le punizioni come lui è in grado di farle mentre qua il primo tempo ancora le pisole non lo vediamo bene sicuramente una spinta c'è da parte del difensore una mano che spinge naturalmente l'attaccante Knezjevic accenta un po' poteva essere dato eh esatto non sarebbe stato clamoroso no assolutamente assolutamente seguiamo il calcio di punizione del Kras battuto Guiotto non è ma già fuori quando Arca va a colpire di testa terzo minuto il tanto proprio sotto la nostra postazione stanno preparando la coppa Italia i premi però c'è anche questa novità particolare la premiazione Francio verrà fatta proprio in tribuna alla davvero alla 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 come i veri come i veri una tradizione che arriva dall'Inghilterra questo Vrizio in pallo non lo favorisce Francescutto non va a cercare il pallone poi né Zuss né Coulibaly possono arrivarci adesso Kras si distende con il solito Corvaglia allarga per Capalbo Capalbo rincorre la sfera Pighini arriva Pighini mette fuori rimessa laterale gioca al Kras quarto minuto quasi il cross di Giordano cercare ancora la Corvaglia rovesciata ci ha provato ma non trova la porta cercato un grandissimo gesto tecnico atletico non era facile però Corvaglia secondo me è il giocatore più in palla del Kras abbiamo rivisto abbiamo rivisto la giocata Capalbo che rimette in gioco proprio per il cross di Giordano che poi abbiamo visto ha servito Corvaglia che non è riuscito a girare in porta era molto molto complicato si fa sentire un po' anche il pubblico del Key Ons la società del presidente Bressan vedrebbe raggiunto un traguardo storico ma c'è tutto un secondo tempo da giocare contro una grande squadra ha detto il presidente Bressan io domenica non voglio essere la più forte squadra dell'eccellenza non voglio battere la più forte questa è stata la sua battuta per il momento ci sta riuscendo adesso c'è stato secondo me un fallo invertito perché questo era un fallo a favore del cross l'arbitro però ha fiscato un punizione per il Key Ons ma ha sbagliato noi abbiamo l'ausilio delle immagini quindi siamo sicuramente avvantaggiati pensa tu che comunque con l'ausilio delle immagini non ci siamo ancora del tutto sbilanciati su quel rigore presunto su Knezjevic anche se la telecamera riprende il pallone non riprende quello che succede in aria non abbiamo ancora sei telecamere che riprendono ci accontentiamo le due diciamo che siamo già bravi così è già abbastanza importante anche se è così posso dire di mio prima impressione così a velocità normale primo momento dico c'è una spinta ma è accentuato e sono d'accordo con Ferro io la chiudo così Slogar adesso come viene in avanti Pighin anche lui subito di prima intenzione Francescuto deve proteggerla su di lui Spettic è un duello tra due grandi giocatori ma ne esce però alla grandissima Spettic Slogar la finta questo quando qualcuno ha qualcosa in più lo vedi subito poi il campo però favorisce ancora Culibali e Giordano commette fallo un Giordano non so se sei d'accordo davvero in difficoltà ma sicuramente un giocatore come lui è penalizzato dal campo adesso il fallo l'aveva l'onore del vero l'aveva commesso più Slogar sì esatto però Giordano che secondo me ha un ruolo importante su questo campo ha faticato parecchio ma non solo lui tanto Zusso cerca Vritz di testa riesce a fare la sponda Francescuto fuori e nessuno quasi ci crede che si è finito fuori questo pallone sembrava dentro assolutamente è qua un errore di Arcaba che non ha visto bene il pallone la palla è rimasta lì si è avventato Francescuto ha calciato benissimo benissimo è uscita credo di niente niente pazzesco ha colpito perfettamente ero già pronto a gridare al gol e comunque altra occasione annotiamo un'altra occasione clamorosa per il Chions questa è una finale sempre più targata a Chions attenzione d'altronde d'altronde come facevi notare tu ci sono un po' di giocatori che fino a questo momento nel class sono venuti a mancare eh si io sinceramente ti parlo di Capalbo ti parlo di Gruic Giordano Knesevic cominciano a essere troppi giocatori che non sono in partita poi fisicamente secondo Merchion c'è qualcosa di più fisicamente come stato di forma si come fisicità della squadra e questo è un grande merito stiamo parlando di un allenatore che lavora benissimo da tanti tanti anni Gialla Spalcordovano rientriamo in cronaca Vritz con sinistro la mette lì c'è una deviazione di Spettic che rischia l'autogol ma in realtà però salva il Kras è una situazione difficile era Arcaba col tacco che la no attenzione vediamo se hai ragione tu c'è Vritz che mette il cross arriva a Arcaba che è lì bravo Arcaba col tacco calcio d'angolo allora otto minuti di gioco nella ripresa Kions 2 Kras 1 Vritz dalla bandierina il suo sinistro è centrale di testa ancora liberi Candus prova la rovessata rimessa dal fondo però ancora di testa potevano far male è pazzesco come su ogni palla inattiva su ogni correre ogni punizione laterale il Kras va in difficoltà guarda che ci arriva Paciulli c'era 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 e in mezzo alla forza di gente che sono il doppio di lui ragazzi non sta marcando il Kras nelle palle inattive veramente in grande difficoltà quindi da bocciare assolutamente oggi da questo punto di vista il Kras e poi ti ripeto secondo me oggi abbiamo visto stiamo vedendo più che io c'è ancora molto tempo assolutamente si Massimo hai pienamente ragione soprattutto il fatto che nelle palle inattive dove il Kras secondo me ha molto di più in quanto a fisicità e a centimetri attenzione Crandus riesce a liberare Crandus è il più bravo a colpire di testa ma altri grossi colpitori di testa non ci sono però ogni palle inattiva è difficoltà per il Kras Francescuto dove ha cercato ancora Paciulli un giocatore partito da Casarsa già già molto bene allora quando tra prima promozione insomma faceva parlare di sé l'eccellenza aveva fatto una stagione sola poi nelle ultime è anche bene col Casarsa però c'è da dire che gli è sempre mancata quella continuità quel salto in eccellenza però queste ultime due stagioni lo stanno consacrando l'anno scorso rivelazione scelta da noi di FMG Sportsan il premiato a Lignano quest'anno anche con questo timbro in coppa insomma sempre più si sta consacrando Paciulli in eccellenza giocatore in piena maturità sì finalmente dai finalmente c'erano voce anche che la San Vittese lo cercasse un approccio sai sicuramente questo tornando sempre alle discussioni di mercato quando una squadra non ha delle grosse potenzialità economica deve investire sulla bravura magari di giocatori che non hanno mai fatto una categoria e quindi possono accontentarsi di un determinato rimborso spese quindi Paciulli poteva essere veramente una seconda punta che avrebbe fatto comodo la San Vittese sale Tavgui decisivo nell'occasione del pareggio di Zlogar il suo sinistro ad aprire completamente ma nessuno avevano tutti avevano tutti tagliato centralmente centrato Corvalde riesce a recuperare palla la tiene anche poi cade a terra resta lì Spetic con sinistro il cross Knezzevic riesce a toccare di testa il pallone non finisce fuori però Zusso adesso allontana Francescutto la tiene per un attimo comunque aveva fatto un'ottima giocata ma lì c'era c'era Spetic Tavgui Capalbo il pallone si ferma arriva Zusso anche poi allontana allontana Paciulli adesso è un attacco adesso il Chios come nel primo tempo adesso ha un momento in cui cerca di occupare più la metà campo del Chios in maniera più concreta Tavgui il sinistro ancora molto largo rincorre il pallone Corvaglia cerca il numero ma si trascina il pallone sul fondo 11 minuti di gioco e ecco il Kras deve riuscire a occupare questa metà campo tant'è che quando lo ha fatto nel primo tempo ha trovato il pareggio Francio sicuramente però poi si espone a differenza del primo tempo dove dopo il 2 a 1 il Chios si è tirato evidentemente indietro adesso il Chios rimane bello alto e quindi crea delle difficoltà il Kras che non può spingere con tutti i suoi uomini ripeto io cercherei di portare Corvaglia un po' più al centro dell'attacco perché perché secondo me il più in palle è quello che può fare può saltare sempre l'uomo forse il cambio è Knezjevic a questo punto ma quantomeno mandaglielo più vicino perché Knezjevic non sta prendendo palla fra i due centrali non c'è nessun movimento nella panchina però assolutamente no anche perché scusa però poi ha soluzioni anche Vittor a Ta a Alberti in panchina appunto a questo giovane Isteri che si è fatto subito notare però è ancora a Cerbino insomma 96 intanto sale con la vetta con i bali lì ci mette il corpo però non tiene palla commette un errore ingenuo ma alla fine fortunatamente per lui il pallone finisce fuori ci sarà quello di rimessa laterale ti dirò che anche con la vetta che è un giocatore con cui ho giocato e conosco molto bene sta mancando un po' il suo apporto nella fase di spinta evidentemente la mossa o comunque la tattica adottata da vittore con Vritz che rimane là sulla zona di Colavetta gli impedisce di spingere e quindi mette in difficoltà il crash che non può usufruire delle sgroppate di Colavetta che è un giocatore che quando a campo davanti mette dei palloni veramente interessanti molto bravi a fare anche la fase difensiva anche i giocatori del Keyons davvero giocatore come Vritz ha detto che sono sacrificati giocatore come Giusso che ha fatto il centrocampista in un centrocampo a tre anche se il mister D'Agostini ha detto quello è il suo ruolo per me Giusso insomma che è molto offensivo come giocatore si sta sacrificando molto per la squadra però il giocatore che io consentimi non conoscevo assolutamente e mi sta piacendo per come sta interpretando il ruolo è il capitano del Tiqui si 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 da lì non si passa senza pochi fronzoli è sempre sulle traiettorie non è la prima volta che fa una partita così di consistenza di qualità non c'è questa volta fuori gioco però è costretto ad allargarsi Francescutto poi pretende troppo e anche lui dice devo fermarmi qua forse anche Francescutto è un po' sottotono rispetto è stato protagonista nell'azione del primo gol però ci aspettavamo qualcosina in più però come dici tu gioca in una zona dove spesso arriva Spettic sicuramente anche se anche se in realtà Spettic è un centrale però arriva io ho notato che spesso arriva a chiuderlo lui beh perché come ti dicevo prima Tanguy è un terzino però molto offensivo quindi ovviamente Spettic deve dare un'occhiata perché questa zona lì è molto scoperta nel male comunque devo dire che io mi sbilancio mi è piaciuto più Spettic oggi che Arkaba anche a me sinceramente ha fatto meglio se gli metti l'insufficienza Arkaba si arrabbia con te secondo me se la ride però però come dici tu mi offrirò una birra così sarà contento 41 anni ancora qua a giocare la protagonista è un talento enorme insomma ha un giocatore che se non ci fossero stati problemi a mio avviso degli extracomunitari i tesseramenti avrebbe fatto una vita nei professionisti lui tanto era fino in D esatto infatti è stato comunque un giocatore che quando in D uno doveva costruire una squadra per vincere il primo tassello era Arkaba l'Itala ad esempio esatto l'Itala ma anche la Provorizia prima il Pordenone tanti anni fa giocatore straordinario ha giocato anche qua a Cervignano naturalmente lui è di casa ha cominciato perché lui quando è venuto di qua è scappato dalla guerra scusa Gruic adesso però cerca la profondità per Corvaglia che raggiunge il pallone calcio d'angolo quando lui è venuto di qua scappato dalla guerra da fiume perché lui abitava in Croazia ma è serbo e lui è venuto qua nessuno lo conosceva ha cominciato a giocare col Cervignano poi è passato in promozione alla Cormonese con la Cormonese è andato in Serie D vincendo due campionate intanto i biancorossi del Croaz vanno a battere questo calcio di punizione Guiotto vuoto non riesce ad eviare sottoporto a Zlogar clamorosa clamorosa occasione occasione per il Croaz se l'è ritrovata lì ma non è riuscito a indirizzare a rete se non sbaglio era proprio Zlogar tanto Capalbo andrà alla rimessa laterale rientriamo perché potrebbe esserci subito un'occasione con il Croaz in avanti il Croaz che mette al centro e poi rivediamo l'occasione capitata a Zlogar lezione ripartenza 4 contro 1 4 contro 1 decide di andare Paciulli il campo lo trattiene poi Zusso di forza c'è anche Francescutto ma che fatica per arrivare fino a quella porta per il Chios tant'è che non ci arriva Francio altra occasione altra ripartenza il 4 contro 1 questa volta il campo ha penalizzato la giocata perché Vrizza era completamente solo di là Francescutto l'ha vista ha provato a servirlo di prima però il campo ha fatto sì che sbagliasse il passaggio comunque il Croaz non può prendere queste imbarcate lo continuiamo a dire da quanto o forse Francio a questo punto sta perdendo può permetterselo e poi dice vediamo se poi il campo mi aiuta a recuperare manca mezz'ora però no ma nel senso adesso ha munito Paciulli secondo ha munito della gara no dico in una situazione normale se lasci quegli spazi prendi gol e c'è poco buona discutere qua magari dice oh mi va male corro indietro e il campo magari mi dà una mano che trattiene il pallone fra poco mini spot per diciamo il diciassettesimo seguiamo il Croaz e fra poco lancieremo un altro mini spot qui da Cervigliano sempre in diretta terzo anno consecutivo per FWG Sports Channel una delle più belle finali però attenzione Guiotto lascia andare è il momento allora adesso sì del mini spot ristorante pizzeria al nuovo baffone a Basaldella all'uscita di Udine Sud facile da raggiungere impossibile da dimenticare anche lo staff di a tutto campo ha scelto il nuovo baffone se cerchi la buona cucina hai solo una scelta ristorante pizzeria al nuovo baffone a Basaldella Croaz Chion sempre in sempre in diretta 2 a 1 per il Chion diciottesimo iniziamo questa finale una delle più belle che abbiamo commentato la terza per noi ma anche una delle più belle degli ultimi anni che io ricordo ho visto anche Fontana Fredda proprio gradisca 3 anni fa bella partita finita tra l'altro che quella se non sbaglio 2 a 1 con un gol decisivo di Sacher adesso non vorrei ricordare male il gol di Sacher me lo ricordo benissimo intanto hai chiamato i cambi dalla panchina e qualcosa si muove qualcosa si muove voglio chiudere il concetto finì 2 a 1 anche l'anno scorso la finale ma nettamente meno bella rispetto a questa che stiamo commentando oggi uscirà Capalbo entrerà penso a questo punto sì Bozis che l'abbiamo visto numero 14 e dovrebbe uscire Capalbo direi una mossa giusta perché Capalbo oggi è mancato ma ovviamente anche lui è penalizzato da un tipo di campo che non mette in luce le sue caratteristiche c'è il cambio hanno fatto il cambio senza guardalina sono stati velocissimi tutto pronto Capalbo ciao va in panchina e entra partita negativa Capalbo fra un po' devi cominciare a mettere i voti aspettiamo fra un po' aspettiamo che passi la mezz'ora perché sarebbero e tu ancora un po' presto Capalbo però che voto dai puoi già svelarcene uno purtroppo un 5 non è mai stato in partita ok fatti dare la formazione a Pettarini così segni già il primo voto Paciulli cerca la profondità per via centrali ma recupera Arcaba ha recuperato Arcaba poi gioca al Kras vi ricordo un po' spartita qui da Cervignano a fine gara ci sarà un break naturalmente per consentirci di preparare tutto e rientreremo con le immagini il commento sentiremo i protagonisti le pagelle di Francione D'Agostini la partita non si chiude al novantesimo continua su FWG sporciane per una giornata anche oggi che per noi nel nostro piccolo è un'altra giornata storica cerca la storia l'ho detto Chions però adesso deve stare molto attento alla situazione di Chions riesce a recuperare su Spetic Bitiki intervento fondamentale ventesimo Arcaba Arcaba ha solo giocato per rimettere il pallone dalla rimessa laterale arriva arriva Bozzi arriva Giordano poi Gruic attenzione Gnezzevic Gujotto ci arriva Gujotto ci arriva si distende e salva il Chios una grande parata sul tocco morbido di Gnezzevic ha fatto una giocata pazzesca Gnezzevic ha fatto un numero veramente ha fintato il tiro ha mandato a Viole il difensore poi ha calciato attenzione al Kras attenzione al Kras il tiro e poi attenzione restiamo sempre fin quando non si chiude l'azione e poi andiamo con il replay ha calciato veramente bene è stato veramente bravo Gujotto a respingere ha fatto una grandissima parata ha salvato il risultato bravi tutti e due grande grande parata grande parata adesso potremmo adesso fra poco la rivediamo quando si chiude quest'azione Francesco calcio di punizione per il Chios velocemente il replay rivediamo la grande parata di Gujotto decisiva intanto si precappara anche un altro cambio entrerà questa è già la parte finale questa è già la parte finale della giocata Dick Nezevic ci sarà un cambio sarà l'uomo partita fino in questo momento Paciulli se possiamo dopo vediamo se c'è il cambio se c'è il cambio andiamo con il replay altrimenti restiamo con seguiamo la punizione no seguiamo c'è il cambio ecco si può fare il cambio e consentivi che questa o ha un problema fisico o sinceramente non la capisco questa mossa secondo me Paciulli è stato lascia stare i due gol ma è stato uno dei più positivi mi sembrava io avrei cambiato beh poi io avrei cambiato sta vincendo e anche mi permettono di dire cosa deve fare Vittorio però Francescuto lo metto a centrare metto il Paciulli largo al limite se vuoi far entrare a Tà andiamo vediamo appena è possibile rivediamo la giocata anche Paciulli poi andiamo sulla punizione Paciulli è è streffato un po' del cambio eh sì stranissimo guarda io non l'ho capita e allora restiamo adesso ancora un attimo però in diretta Giusso larghissimo chiedo alla regia adesso sì però eh no non c'è allora non rivedremo dopo la giocata di eh di Guiotto io la chiamo di Guiotto perché secondo me è stato deciso ma ha fatto una grandissima giocata anche Knesovic Candussio adesso lotta a metà campo anche lui non male a parte anche se perché sul gol di Zlogar c'era Dena Dai intanto notiamo una cosa ti faccio notare che il Kras ha cambiato atteggiamento perché Bozic che è entrato è andato a fare il difessore centrale e ha portato a centrocampo Spetic che è più il suo ruolo è più il suo ruolo quindi adesso vediamo un po' come in che maniera contrattaccherà il Kras Giordano adesso che è cresciuto in questo secondo tempo Sì è vero anche se di nuovo c'è stata l'occasione per chiuderla o quasi per il Kroos ma poi appunto la possibilità del pareggio per il Kras con Knesis una palla però è una palla e questo qua ti punevo eh sì ma quella è la bravura di questi giocatori che magari non sono più nel fiore degli anni però il colpo in canna ce l'hanno sempre il colpo da giocatore ha sento la giocata morbida no? è andata a piazzarla sì però si è disteso benissimo qui Spetic comincia a correre dietro a tutti a recuperare un sacco di palloni il voto a Paciulli invece quale sarà? 7 7? neanche un mezzo voto in più? ma io mi tengo sempre stretto sui voti comunque voglio dire 7 perché vedrai le altre votazioni poi sicuramente in questo momento ci sono dei bei voti oggi sì sì una squadra che vince io la vedo più da giornalista se dovesse finire così il 7 diventa sempre 8 giornalisticamente eh giornalisticamente bravo giornalisticamente io da opinionista che non sono un giornalista cerco sempre di tenere dei voti più bassi più bassi più credibili magari no? perché so che a voi piace esaltare con le pagelle le cose mentre a noi giocatori facevano abbastanza arrabbiare tutti diciamo che non le guardiamo però quando lunedì vedi un voto negativo eh sì ti girano le scatole quel giornalista è vero è vero calcio di punizione per il Kras resta lì Giordano con sinistro Murato chiedono la regia di preparare sempre tenere sempre pronto un mini spot in questo secondo tempo che per che lanceremo appena ci sarà la possibilità quando gioca sarà fermo adesso si gioca invece perché il Kras è in attacco come detto Francione è cresciuto Corvaglia vuole lo scambio con Zlogar Candusso di testa poi Giordano a terra lascia proseguire Ferro e il Kras si arrabbia tantissimo adesso è in campo a ta ricordiamo il posto di Paciulli là davanti e adesso calcio di punizione di Ferro di fischiato da Ferro la il cambio importante una scelta che poi naturalmente cercheremo di capire meglio lo chiederemo a Vittore come mai ha scelto di cambiare proprio Paciulli anche se nel secondo tempo magari era calato aveva bisogno di fisicità là davanti anche Vittore uno che tenesse magari più palla beh però come tu avevi interpretato bene dicendo che magari ci poteva spostare sull'esterno magari anche lo stesso Vriz non lo vedo freschissimo fisicamente poi io Nezevic c'è fuori gioco palla al centro prova una rovesciata un po' goffa però poi sinistro deviato da Bertacchini calcio d'angolo ovviamente non farò mai l'allenatore però un giocatore che mi segna due gol è in partita come se non ha qualche problema in fisico lo porto fino alla fine perché è in giornata quindi può far sempre gol esatto calcio d'angolo per il Kras il 26esimo ma il Kras è cresciuto ma tutto calcio d'angolo di testa nessuno Arcaba rincorre un po' lentamente arriva vuole andare sul fondo poi rientra sul sinistro tiene sempre palla il cross bello di testa al Kionse un fischio dell'arbitro calcio di punizione mini spot per noi al 27esimo Etigraf azienda nata nel 1983 come laboratorio tipografico per la stampa di etichette autodesive in bobina Etigraf assicura un sempre migliore e completo servizio che va dalla progettazione alla fornitura della soluzione alle nuove idee di packaging Etigraf invia Alessandro Mazzoni a Kionse ancora in diretta adesso non è in attacco il Kionse 27esimo sempre in vantaggio alla squadra giallo-blu sul Keras due gol di Paciulli che è stato sostituito si è sentito molto più pubblico nel Keras di quello di Kionse si sta lamentando molto dell'arbitraggio sei con loro o no? guarda indubbiamente il rigore abbiamo detto che poteva starci e poi ci sono stati un paio di episodi che forse il fallo andava invertito cioè è stato fiscato a favore del Kionse ma in realtà era a favore del Keras io la vedo però noi abbiamo l'ausilio Atalcetto trattenuto nettamente fuori gioco fuori gioco e quindi ok però ricordo perché era trattenuto questo qua non c'erano dubbi ricordo che noi abbiamo l'ausilio dei replay cosa che l'arbitro non ha sì sì assolutamente poi da vedere e vedi Ferro ha visto la segnalazione è andato subito fischiare quello che era un fuorigioco però Francescutto Francescutto si avventa sul pallone in sinistro e guadagnolo gli dice no ancora un'occasione per chiudere per il Kions Francescutto a terra quasi stremato ventottesimo intanto informiamo i nostri telespettatori che il Pordenone sta vincendo 1-0 indovina chi ha fatto gol subito esatto esatto vedi su punizione quindi nuovo anno vecchie abitudini esatto certe cose non cambiano bene Pordenone in vantaggio altra nostra grande eccellenza oggi siamo qua ma naturalmente martedì vedrete le immagini in a tutto campo serie D perché la serie D è in campo martedì alle 20 le immagini del Pordenone calcio che sta vincendo aiutami che sta vincendo con il Montebelluno 1-0 poi magari chissà se riusciremo a sapere anche il risultato del Marano dalla nostra postazione perché siamo sempre molto curiosi naturalmente quello che accade in questo campionato che vede il Pordenone lottare per la serie C per la Lega Pro unica che sarebbe un traguardo importantissimo che poi anche qua non voglio fare una gaffe in realtà sarebbe storico perché fa la C2 il Pordenone questa diventa la C la C unica con fedele fa la C2 con fedele sì con fedele fa la C2 negli anni addietro credo che abbia fatto anche la C perché una volta anche lì era C unica è chiaro chiaro sì 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 il Kras prova a recuperare ma naturalmente si espone a parecchi rischi perché anche abbiamo visto poco fa un'altra occasione intanto la notizia Massimo se vuoi è che ha smesso di piovere tanto ormai non penso la sospendevano ormai si va fino alla fine Pioggia è stata protagonista al momento insieme a Paciulli diciamo così trentesimo di gioco fra poco ci svelerà anche il nuovo partita abbiamo fra una decina di minuti nel frattempo ti do ancora cinque minuti poi devi cominciare a compilare una bozza di Pagena in Francia dei lavoratori volevo aggiornarti su un altro risultato che interessa a noi un altro risultato che ci interessa a noi è quello del Marano quel Marano che sta vincendo 4 a 0 ma insomma col draw quindi insomma era un turno abbastanza agevole per il Marano volevo aggiornarti anche su un'altra squadra del nostro mandamento impegnata nella serie D Monfalcone purtroppo sta perdendo 1 a 0 in quel di Vittorio Veneto espulso Zoratti ed espulso Marticis questa è la situazione adesso Azzunso ha recuperato palla quattro difensori del Kras sbilanciata la difesa del Kras ma riesce ancora a recuperare con la vetta non c'è naturalmente neanche la precisione nelle giocate della squadra di Vittorio in questo momento trentunesimo abbiamo superato quindi la mezz'ora di gioco il Kras ha fatto come ha detto Francio sicuramente più la partita nella ripresa e poi per forza di cose sbilanciato ha rischiato l'occasione più importante resta quella di Knezjevic dove Guiotte è stato assolutamente decisivo un quarto d'ora alla fine di questa finale di Coppa Italia per il momento decinano i due gol di Paciulli qui a Cervignano il campo a retto l'organizzazione è stata fantastica le premazioni saranno qui in tribuna ma c'è ancora da giocare il Kras batte il calcio d'angolo c'è un colpo di testa resta in aria Giordano non riesce a girare Francescutto ancora con tutta la forza che ha poi Vriz gli cerca un triangolo pazzesco e qua naturalmente esce D'Agnolo pretende tantissimo il Chioso adesso Attà vuole andare via il Puma con la sua velocità viene atterrato non mola poi anche Giordano due falli e almeno su due falli un giallo c'è sceglie quello di Giordano francamente sceglie quello di Giordano che è già ammonito e si era stato ammonito nel primo tempo per proteste adesso è rosso e qua poi sentiremo anche i commenti del post partita era da ammonire il fallo precedente c'è poco da discutere qua un giallo c'è secondo me c'è regola del vantaggio fallo di Giordano cartellino giallo sacrosanto ma guarda mi avviso l'entità del fallo non era da giallo quindi non sono d'accordo non sei d'accordo no rivolgo a vedere le immagini perché stavo anche compilando le pagelle però non mi sembrava un fallo da ammonizione dai credo adesso rivedremo le immagini questo fallo ma non mi sembrava un fallo da un'entità tale da ammonizione esiste la prima volta difesa sbilanciata questo è un fallo tattico non lo so se sei tu in campo ti lamenti ma sicuramente questo è un altro paio di mani da fuori ti dico che io non avrei dato il secondo giallo si è lamentato tantissimo il pubblico del classe attenzione a Zusso adesso che cerca Canduscio di testa non trova la porta pallone fuori trentatresimo la partita emozionante sempre fino alla fine risultato ancora in bilico il Chios resta lì c'è stato un errore Canduscio tocca sotto è costretto però a rincorrere Francescuto riesce a mettere al centro viene segnalato qualcosa dall'assistente Ferro fa fatica a tenerla adesso a mio avviso mi piacerebbe rivederlo quel fallo perché io il giallo non l'avrei dato il secondo giallo soprattutto se uno è già monito non mi sembrava di una gravità tale da dare ad un altro giallo e vedremo se riusciremo a proporvelo subito altrimenti ci sarà naturalmente come detto il post partita per analizzare tutti gli episodi più importanti di questa finale di Coppa Italia quando mancano dieci minuti poi ci sarà anche il recupero Francescuto che gran palla Francescuto Vriz ma ancora Danilo un miracolo che salva il Kras e la partita resta aperta Danilo su Vriz una parata fondamentale ha letto tutto bene Danilo ma resta in attacco il chiosco con Vriz ancora lui riesce a mettere al centro non c'è nessuno c'è il neo entrato Bozic che allontana la minaccia ripetiamo questa finale la più bella degli ultimi anni Kions Kras al di là di tutto uno spettacolo questa è l'occasione per chiuderla Vriz è a un passo da Guiotto è un passo da Danilo ma c'è una grande parata il Kras è avanti adesso ma arriva senza problemi stavolta si Guiotto c'è un cambio per il Chios allora noi prepariamo un altro mini spot al 35esimo perché arriverà il cambio del Chios una piccola pausa come sempre di 30 secondi al momento del cambio seguiamo però ancora l'azione in diretta con il Kras che prova a giocare arriva Bitticchi lancia ancora Francescutto che adesso gioca con tutte le sue forze a Tai più fresco cerca il dribbling Antà viene chiuso da Bozici in un primo momento mette al centro nessuno c'è sbaglia il difensore Francescutto è un replay è un replay di quello che è già accaduto non va Francescutto che sfortuna adesso c'è il cambio adesso per noi c'è il mini spot lì nella regia edicola centro di Cogoi Rocco dove fai sei al Super Enalotto la fortuna ti aspetta a Palazzolo dello Stella Agriturismo Casali V8 a Precenico cucina tipica tutto fatto in casa Agriturismo Casali V8 e ecco qua i cambi scelti da Vittore Zuppan entra Alberti adesso deve anche difendersi naturalmente finalmente fa un cambio da una squadra che in questo momento sta vincendo la Coppa Italia rastrazione anteriore guarda Francescutto ancora un passo da sfortuna ma insomma sfortuna bisogna anche prenderla la porta per far gol la sfortuna se prendi un palo se ti fa un paratore il portiere ha calciato fuori è vero hai ragione anche tu Francio non posso dirti però sai l'angolo gli dai quel taglio lì dritto per dritto il campo non ti aiuta però è intanto anche scusa è intanto anche Petrazi sì per il crass giocatore che ci sembra un po' leggerino sinceramente quindi non so su sto campo come senti è il trentasettesimo i voti li hai messi sì li ho messi tutti ma ma chi sta sta meritando questa vittoria al momento dimmi la verità secondo me sì ha avuto molte più occasioni sicuramente sta meritando la vittoria perché in questo secondo tempo almeno tre volte doveva Francesco e una soprattutto con Vriz avrebbe potuto chiederla chiuderla però è ancora aperta è partita aperta fino alla fine perché se non la chiudi poi una mischia un qualcosa è il trentottesimo ormai sette minuti al termine più recupero la Coppa Italia la Coppa Italia sta per essere assegnata e al momento c'aveva una mano sta allungando anche la seconda mano sulla Coppa credo che a fine partita intervistiremo la parte crass ci saranno parecchie lamentazioni sull'arbitro e poi sentiremo che giudizio sull'arbitro fra poco invece Francione ci dirà l'uomo partita che attenzione dal termine uno pensa uno fa due gol e l'uomo partita ovvio però non è scontato mai non è mai scontato però però insomma ci siamo quasi anche se poi l'anno scorso per esempio è essetto Gallinelli non è essetto chi ha deciso chi ha deciso l'incontro è vero è un difensore tanto il crass molto sportivo Zlogar che butta fuori il pallone molto sportivo prepareremo fra poco l'ultimo mini spot di questa diretta del 90 minuti trentanovesimo gioco adesso è fermo vediamo se va per le lunghe c'è ancora giocatore a terra ecco l'arbitro ferro leggermente diciamo così leggermente contestato dal crass naturalmente soprattutto che al momento soccombe sta perdendo per 2 a 1 atta allontano e adesso arriva la comunicazione a fine partita le premiazioni proprio sotto la nostra postazione qui in tribuna una novità UFM in 9 intanto purtroppo si avvicinano a sconti e intanto terra un altro giocatore del Chions fallo di Petracci vi ricordo che noi seguiremo in diretta la la premiazione e poi ci sarà il post partita adesso il gioco è fermo e allora approfittiamo per l'ultimo mini spot ritorna l'appuntamento più atteso della stagione a Cervignano venerdì 17 gennaio ore 22 nella splendida cornice del gran salone delle feste all'hotel internazionale ritorna la serata solo per numero 1 venerdì 17 gennaio ore 22 first class all'hotel internazionale di Cervignano del Priuli altra comunicazione importante per la regia mentre siamo rientrati in diretta fra poco potremmo azionare anche il microfono del nostro Simone Fornasiere perché entrerà entrerà naturalmente in campo c'è stato un fallo si ma è camoroso che non è stato ammonito qua grave insomma e qua devi ammonire si 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 male 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 non puoi non ammonire vuol dire che non ci sei più con la testa non ha adesso se adesso lo fai no ma forse ha ammonito ammonito un altro ha ammonito Zusso perché ha buttato via il pallone non l'autore del fallo insomma è diciamo così un un arbitraggio anche a quello devi dare il voto che non forse ha una sufficienza forse risicata attenzione al Kras intanto Corvaglia riesce a mettere di testa in area poi Candusso mette fuori deve soffrire il Chions adesso nel Kras ancora vivo c'è ancora solo un gol di distanza in the box in the box eh sì tutti chiusi tutti dietro Kras Arcaba bene la sponda di testa restituisce a Gruic Gruic deviata da Zusso non è riuscito ad alzare Milan oggi non è riuscito anche sulle palle inattive ad alzare bene il pallone a fare dei cross che lui è capace è stato forse quello che ha sofferto più di tutti il campo pesante è il 42esimo il Kras ancora in avanti per cercare il pareggio largo non si può arrivare neanche Zlogar rincorre De Nadai del Chions ecco qua la lotta l'uno contro uno lo vediamo l'inquadratura stretta va al cross ma è facile preda questa di Francescutto si proietta in avanti ma non riesce a raggiungere il pallone ormai insomma il Chions attende solo che arrivi la fine di questa gara che sta vincendo e diciamo anche un'altra cosa una curiosità tanto Fornasier bacia le bordo campiste eh bravo 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 Fornasier anzi le fotografie adesso abbiamo ufficialmente anche il bordo campista quindi fra un po' sentiremo anche Fornasier da bordo campo oggi lo abbiamo evitato vista la pioggia non volevamo dargli questo compito continuo sta chiedendo il numero di telefono concentriamoci che concentriamoci perché mancano due minuti è pericolosissima poi eh sì volevo dirti curiosità al momento sarebbe la terza finale consecutiva che commentiamo in diretta che finisce 2-1 eh allora la prossima anno la SNAI saprò cosa giocare cosa c'è vabbè Simone ci può dire anche cosa sta dicendo Vittorio in questi momenti eh se ci senti mi senti sì vai sta dicendo che vuole massima attenzione su tutti gli uomini perché non si può concedere nulla in questo momento e adesso però ha concesso un calcio di punizione un calcio di punizione dove aiutami Francio Spetic inizia la battuta Spetic e questo sicuramente calcerà in porta si proverà si proverà attenzione Spetic barriera 44esimo resta lì ancora Spetic suonare sul fondo per andare al cross calcio d'angolo per il Kras calcio d'angolo per il Kras il 44esimo manca un minuto al termine ma per il Kios è autentica sofferenza adesso in questo momento sì anche questo è il bello di portare poi fuori una finale soffrire fino all'ultimo però non è finita si chiama il calcio d'angolo primo palo non riesce a calciarle bene Gruic oggi le palle in attiva sentiamo Simone che voleva intervenire sì ti posso dire che il Kios ha due allenatori oltre a vittore c'è Luca Peruc scatenato che sta dando indicazioni a tutti spero avete sentito bene Simone Fornasieri dice c'è anche un Luca Peruc scatenato il portiere è buona Corvaglia in area si deve allontanare un attimo dall'obiettivo poi mette al centro di Nadai il corner andrà in calcio d'angolo resta lì il Kras resta lì a far paura resta lì a cercare il pareggio attenzione al calcio d'angolo rientriamo subito rientriamo subito calcio d'angolo il colpo di testa liberare e adesso vuole uscire c'è un fallo di Spettic può respirare il Kions il fallo di Spettic arriva al 45esimo si attende il recupero hai qualche indicazione sul recupero Simone? no l'arbitro Ferro non ha ancora indicato nemmeno con l'assistente qui sotto la nostra postazione Kions 2 Kras 1 è finito il tempo regolamentare è finita la gara in questo momento ma naturalmente c'è il recupero non ancora assegnato lo stiamo attendendo si si può attendere almeno 3 minuti di recupero Corvaglia tutti attendono il recupero di Ferro mentre a time fuori gioco ha cercato di rientrare e poi partire vittore è scatenato vorrebbe il recupero è effettivamente 46esimo quasi oggi ho visto una terna ancora un po' indietro per una partita leggera si mettiamoci una terna poi non so io lo dico no ma è la tua opinione secondo me l'arbitro ha fatto degli errori indubbiamente attenzione non ha qui se il Kras perde perde perché perde il Kras ma no sicuramente adesso non è che è colpa dell'arbitragio il recupero non so che cronometro abbia l'arbitro c'è sempre questo discorso non è costretto forse a segnalarlo l'arbitro adesso sta segnalando forse non lo so forse non è costretto a segnalarlo è il 46esimo 46esimo e 30 secondi non sappiamo quando finirà non sapevamo quando iniziava e se iniziava non sapremo quando finirà questa finale di Coppa Italia ma è vittore scatenato il mister del Kios dovremmo inquadrarlo dovremmo inquadrarlo il mister perché è davvero scatenato tranquilli avete vinto intanto predicano tranquillità il 47esimo due minuti sopra i tempi regolamentari ma non c'è nessuna segnalazione il Kios sta vincendo il 2-1 i gol tutti nel primo tempo doppietta di Paciuli il singolo di Zlogar una partita emozionante una partita bella vibrante intensa una delle migliori finali di Coppa Italia degli ultimi anni e si cerca ancora però il risultato finale perché non è finita non è finita non sappiamo quando Ferro fischierà la fine a questo punto fischierà la fine senza dare il recupero lui l'ha dato ma certo non so chi l'abbia dato Krasen attacco il Krasen attacco attenzione il numero poi la scivolata su Porvaldia ancora il Kios si difende bene resta in area è un altro corner ne abbiamo perso naturalmente il conto in questo secondo tempo proprio sul finale 48 quasi il corner è quasi gol è quasi gol sembrava indirizzato in porta ci arriva Bujotto che riesce ad andare a prendere il pallone il Kras non molla niente il Kras si prova ma sembra ma sembra finita attenzione stiamo sulla partita stiamo sull'arbitro stiamo sull'arbitro perché ha già dato recupero ma non l'ha segnalato le panchine i giocatori stanno parlando con lui e lui ha detto no guarda che ho dato recupero però non è stato non è stato comunicato forse 4 minuti e adesso restiamo il più possibile sull'arbitro sul campo il Krasen attacco Spetic saltato Pichin poi Canduzio Canduzio va a prenderla calcio d'angolo ancora due giocatori a terra che finale emozionante che finale che finale in ogni senso direi bello bello come giusto che sia perché è stata veramente una bella partita due squadre che hanno giocato a viso aperto l'uomo partita Federico Françoni beh indubbiamente Paciulli il resto della mia idea è stato l'uomo decisivo in una finale secondo me giocata meglio dal Chions che ha legittimato con un sacco di occasioni però non è ancora finita chiedo se magari ci sente che in cuffia Davide Pettarini di comunicare ad Antonino De Blasi l'uomo partita che è Paciulli Daniel Paciulli l'uomo partita di FWG Sport Channel dopo Simone Del Mestre il primo anno dopo Olsen Gallinelli ha il premio di FWG Sport Channel va Daniel Paciulli ad Antonino De Blasi che gestisce poi la premiera la comunicherà qui all'austadio di Cervignano al momento delle premiazioni 49esimo superato attenzione in area forse con un braccio forse con un braccio resta viva l'azione il Chions si difende c'è anche Dagnolo in area attenzione guarda che lo metta l'arbitro non lascia siglare il terzo gol al Chions perché ne bastano due basta la doppietta di Paciulli e la storia per il Chions ha battuto la più forte ha battuto il Kras la Coppa Italia è di vittore è del presidente Bressan è di un grande Chions che ha vinto la Coppa ed entra così nella storia del calcio di lettanti nella sua piccola storia Francio bravissimi complimenti è stata una bella partita su un campo veramente difficile interpretata bene dalle tue squadre però il Chions ha meritato di vincere per le occasioni costruite e per quello che ci ha fatto vedere quindi onore al Kras ma complimenti al Chions che francamente non ha rubato niente ed ha meritato questa vittoria grazie a tutti